In un podcast recente di alcune settimane fa ho parlato di un articolo che analizzava le strutture nasali e ricostruiva le vie respiratorie superiori, quindi quelle che vanno dalla narice, dal naso, in pratica dalla regione del naso fino alla regione dell'aringe nei rettili e come queste siano poi state ricostruite in alcuni dinosauri etropodi e che implicazioni queste ricostruzioni hanno avuto nella discussione su quale fosse il meccanismo di termoregolazione e perlomeno di termoregolazione della regione della testa, in particolare della termoregolazione del cervello. In realtà questo studio, che ora vedete qui l'immagine improduttiva di questo articolo, può avere delle implicazioni interessanti anche per la discussione relativa ai tegumenti facciali e quindi alla ricostruzione della regione orale nei dinosauri. In che senso? Perché le vie respiratorie, nella maggioranza dei vertebrati terrestri, sono in qualche modo collegate e connesse con la regione della bocca. Quindi ricostruire la struttura della regione respiratoria superiore ha delle implicazioni anche nella ricostruzione della bocca. Questo può sembrare, come dire, un po' strano per chi non conosce nel dettaglio l'anatomia in particolare dei rettili e parte dal presupposto che la maggioranza degli altri vertebrati siano fatti come noi mammifere in realtà. Noi mammifere abbiamo una conformazione delle vie respiratorie superiori e del palato un po' particolari e non siamo quindi un esempio idoneo per questo tipo di confronti. Infatti, prima di entrare nel dettaglio e analizzare i dinosauri, proviamo a guardare un attimo come sono costituite le vie respiratorie superiori in un mammifero e in tre tipi di rettili, o meglio di sauropsidi, perché alcuni possono faticare ad accettare l'utilizzo della parola rettile per un uccello. Comunque, nei mammiferi abbiamo la narice esterna, che è qua, che è il punto in cui la rientra dentro la testa, la quale si sviluppa come una via respiratoria completamente separata dalle vie alimentari fino a convergere con queste a livello della regione della laringe. Quindi la narice e le vie respiratorie sono superiori, sono completamente separate, fino a incontrare le vie alimentari, quindi la bocca e le vie digerenti, molto molto indietro a livello del cranio. Questo avviene perché nei mammiferi c'è un grande palato secondario, c'è un palato osseo che separa completamente la via respiratoria rossa da quella che è la via alimentare che sarebbe qua sotto. Nei rettili questa conformazione si osserva anche nei cocodrilli. I cocodrilli hanno la via respiratoria, che è qui mostrata in giallo, che è completamente separata dalla via alimentare, e di conseguenza solo a questo punto, come nei mammiferi, c'è l'unione della via respiratoria con la via alimentare, a livello della laringe. Questo perché il punto in cui la via respiratoria sbocca posteriormente, la cosiddetta narice interna o coana, nei cocodrilli è molto arretrata. L'evoluzione dell'arretramento della coana è uno dei classici dell'istoria evolutiva dei crocodili amorfi, e si vede come progressivamente in questi rettili la posizione di questa coana si sia spostata sempre più indietro, fino praticamente a svincolarsi totalmente dalla regione del cavo orale della bocca. Ma appunto la condizione nei cocodrilli moderni è un'eccezione, non è la regola rispetto agli altri rettili. Ad esempio, se noi andiamo a guardare un uccello moderno, vediamo che negli uccelli moderni la condizione è in parte simile a quella dei cocodrilli, ma non del tutto. Abbiamo un'ampia via respiratoria la quale poi sbocca in fondo alla bocca, quindi vi è un palato secondario interzialmente sviluppato, che però comunque permette lo sbocco della coana, che è questa, a livello più o meno di dove stanno gli occhi. Quindi più anteriore rispetto alla condizione nei cocodrilli. E infine abbiamo, ad esempio, nei lepidosauri, le via respiratorie sono relativamente corte e sboccano sul palato. Quindi all'interno della bocca di questi rettili noi abbiamo l'apertura della coana, che quindi collega direttamente la via respiratoria subito con la bocca. Queste differenze si osservano anche nell'animale in vita. Se ad esempio noi confrontiamo un cocodrillo con un uccello e un lepidosauro, vediamo la diversa conformazione dello sbocco della narice interna, cioè della coana. Questo è un cocodrillo. Si vede meglio in quest'altro esemplare. La differenza è che in tutti i cocodrilli c'è una valvola che permette di chiudere completamente la bocca, di separarla dal sbocco della coana, la quale sbocca in fondo, dietro questa valvola. Quindi quando un animale si immerge, ad esempio, può chiudere con una valvola completamente la bocca. Vedete, non c'è alcuno sbocco, nessun passaggio, se colleghi le vie respiratorie. Quindi quando un animale respira, l'aria entra qua nella narice in alto, scorre fino in fondo alla testa e sbocca all'interno della via alimentare e respiratoria unite, quindi nelle laringe, ben in fondo rispetto alla bocca. Quando questa valvola è completamente chiusa, l'acqua non entra, ma soprattutto l'aria non esce dalla bocca, l'aria esce solo dalla narice quando questa valvola viene chiusa. E quindi l'animale può separare completamente la via respiratoria dalla via alimentare. Quindi questo è appunto il palato tipico dei coccodrilli, completamente piatto, completamente privo di alcuna apertura. Non c'è nessun tipo di apertura a livello del palato della bocca. In più c'è questa valvola che permette completamente di separare le varie vie. Gli uccelli, abbiamo visto, hanno una condizione intermedia, infatti vediamo che questa è la coana, questo è il punto in cui la via respiratoria, l'aria entra dalla narice esterna, scorre qui dentro e poi esce nuovamente in questo punto per poi essere inghiottita. Notate che, a differenza del palato del coccodrillo, quindi il palato, soprattutto intorno alla coana, è molto rosso e vascolarizzato, mentre non è il caso del coccodrillo, perché appunto, un elemento che non ho specificato prima, la coana, essendo una via respiratoria, ha bisogno di essere costantemente umidificata. Deve essere umida, deve essere soprattutto protetta dall'esterno, non deve subire sbalzi di temperatura, non deve subire sbalzi soprattutto di pressione e di umidità. Quindi vedete che è riccamente vascolarizzata e sempre più o meno umidificata. La parte anteriore, invece, della bocca degli uccelli è più cornea, proprio perché non c'è la necessità di umidificare, vascolarizzare la coana. Nell'epidosaurio, invece, la coana sbocca molto in avanti e di conseguenza tutta la bocca è umidificata e scolarizzata e quindi è dotata di mucose che mantengono fresca e umida questa regione, dato che le coane sboccano direttamente nella regione del palato e non più indietro. Questo è il fondo della bocca, vedete che le coane sboccano molto più avanti rispetto al cavo orale e direttamente a livello del palato. Queste differenze si riconoscono anche a livello di ossa. Se noi confrontiamo i crani e i palati dei vari rettili e uccelli, vediamo appunto che ci sono differenze collegate con la posizione delle narici, che sono a loro volta collegate con quanto vi ho appena detto, cioè quanto in profondità è estesa il tratto delle vie respiratorie. Nei coccodrilli le coane sono profondissime, vedete, sono molto indietro, praticamente stanno sul fondo della testa, molto indietro rispetto anche alle orbite e agli occhi. Le coane sboccano in fondo e tutto il resto è un unico palato completamente ossificato, privo di altre aperture. Vedete che il palato è completamente ossificato e saldato e le coane sono queste due in fondo al stranio. Gli uccelli mostrano una condizione intermedia, le coane sono a livello degli occhi e sboccano in questa posizione e sono in parte, appunto, umidificate e vascolarizzate. E infine, nei lepidosauri, le coane sono ancora più avanti, sono a livello del palato, sono davanti nella bocca, sono più avanti rispetto agli occhi e sono quindi necessariamente protette da mucose vascolarizzate e umidificate. Perché devono essere protette e vascolarizzate e umidificate le coane dei lepidosauri rispetto a quelle dei coccodrilli. Ci soffermiamo su questi due casi estremi che sono quelli più utili. Appunto perché i coccodrilli si possono prendere il lusso di disidratare la bocca, perché le coane sono talmente arretrate e la via respiratoria, talmente estesa all'indietro e completamente separata dalla via orale, dalla bocca, che la necessità di mantenere umide le coane non è più un'urgenza in questi animali perché le coane sono talmente arretrate dentro la testa che non corrono il rischio di seccare, di disidratare e di essere eventualmente danneggiate da sbalzi di temperatura perché stanno in fondo al cavo orale a livello proprio all'interno della testa. Questo non è il caso dei lepidosauri dove abbiamo visto che la coana è molto anteriore e sbocca a livello della bocca. Quindi ogni volta che l'animale apre la bocca le coane corrono il rischio di essere disidratate o di subire danneggiamenti o sbalzi termici. Ecco che allora questi animali sono dotati delle necessarie protezioni mucose ma soprattutto di un meccanismo che permette quando l'animale chiude la bocca di sigillare completamente il cavo orale e quindi proteggerlo dalla disidratazione e permettere un flusso uniforme dell'aria dal naso alla coana e poi all'interno della via respiratoria. Quindi vedete che c'è una relazione stretta tra estensione del palato sviluppo delle coane posizione delle coane posizione presenza eventuale di dispositivi che sigillano la bocca ovvero di labbra. Un animale come un cocodrillo non ha bisogno di labbra perché le coane sono talmente arretrate che non corrono il rischio di disidratarsi anche quando l'animale mantiene la bocca aperta o semi chiuso o comunque non ha la necessità il palato di rimanere umido e vascularizzato come nel caso dei lipidosauri di conseguenza non c'è la necessità di avere una protezione continua a livello di bocca quando l'animale chiude appunto le mandibole. Gli uccelli hanno una condizione intermedia che la parte anteriore è effettivamente corneificata ma la parte in fondo che comunque è già all'interno della testa dato che la conformazione del cranio degli uccelli è un pochettino modificata le coane comunque stanno già dentro all'interno della testa e mantengono comunque un grado di umidificazione che non vediamo invece nei cocodrilli. I lipidosauri invece abbiamo visto e lo ripeto per il modo che sia chiaro il concetto avendo le coane così anteriori devono disporre di tutti quei meccanismi che proteggono le coane in particolare dalla disidratazione e mantengono un flusso d'aria regolare e uniforme dalla narice al scavo orale. Quindi gengive quindi umidificazione della regione orale labbra quando la bocca si chiude perché è necessario avere anche le labbra in questi animali mentre nei cocodrilli no. Punto perché oltre a prevenire la disidratazione perché sigillano completamente la bocca non danneggiano il flusso respiratorio voi dovete immaginare che l'aria entra dalle narici si vede bene qua in questo uccello entra dalle narici attraversa questa zona sbocca qui e poi prosegue in fondo ma questo flusso è pompato dal polmone il polmone genera una pressione negativa che aspira l'aria dalle narici e le fa scorrere lungo questa traiettoria ma se l'animale ha la bocca aperta come in questo caso la pressione lungo questo tratto non permette all'animale effettivamente di ispirare l'aria perché avendo la bocca aperta la pressione dell'aria che agisce sul polmone va a partire dalla regione della bocca per far sì che il flusso d'aria partendo dalla narice scorra fino alla coana e poi arrivi al pollone voi dovete chiudere la bocca in modo che l'unico sbocco all'esterno sia la narice intanto che la bocca è aperta dato che le coane sboccano sul palato l'animale non può generare una pressione d'aria quindi un flusso dell'aria dalla narice dalla coana quindi se avete un animale che respira con le narici gli dovete fornire un qualche meccanismo che gli permetta di mantenere una separazione continua dalla narice fino al polmone del flusso respiratorio un modo è quello dei cocodrilli ovvero arretrando così tanto indietro la coana e producendo una valvola per cui si possa separare la bocca dalle vie respiratorie oppure in tutti gli altri animali semplicemente fornite la bocca di un sistema di un meccanismo di valvole per cui quando la bocca si chiude la pressione esterna non agisce a livello della bocca ma agisce solamente a livello della narice nel caso dei lepidosauri questo meccanismo sono le labbra quando le labbra si serrano si sigilla la bocca il flusso dell'aria parte dalla narice arriva al coana e continua lungo il cavo orale in questo momento che il lepidosauro che vedete qui ha la bocca aperta non c'è un flusso d'aria dalla narice al coana perché l'aria non c'è direttamente dalla bocca in questa posizione pompata dal polmone per far sì che l'aria scorra anche a livello delle narici e delle coane l'animale deve chiudere la bocca sigillando il cavo orale quindi concludendo noi abbiamo una relazione stretta tra posizione delle coane sviluppo del palato secondario e presenza eventuale di meccanismi che sigillano la bocca e quindi noi possiamo usare queste caratteristiche osteologiche per determinare in quali animali estinti ci fossero labbra oppure meno se ad esempio i dinosauri avevano se avessero le coane posizionate come nei coccodrilli e un enorme palato secondario esteso fino alla regione posteriore del basicranio fino a qua e le coane arretrate in questa zona la ragione vuole supporre che avessero un meccanismo di ventilazione e delle valvole da coccodrillo qualora abbiano le coane a livello del palato e non dispongano di un palato secondario esteso fino alla regione del basicranio allora dobbiamo concludere che dovessero essere dotati di labbra che permettevano di sigillare la bocca e di mantenerla umida e vascularizzata a protezione delle coane e anche per garantire un flusso respiratorio efficiente quindi andiamo a vedere il cranio di vari dinosauri ad esempio allosaurus e vediamo che il cranio di allosaurus ha le coane conformate come nelle epidosauri questo è il punto in cui sboccano le coane nel palato vedete che questo è lo stesso cranio visto di lato in vista ventrale vista dal palato vedete che le coane sono posizionate molto avanti rispetto agli orbite sono a livello del palato esattamente come in un lepidosauro infatti la via respiratoria ricostruita in giallo vedete che segue un tracciato che è più simile a quello di una lucertola piuttosto che a un cocodrillo nei cocodrilli noi ci aspetteremo di trovare le coane in questa posizione posteriore e non invece qua questa è la conformazione che noi vediamo nei lepidosauri si vede bene qua la via respiratoria entra dalla narice si piega e sbocca direttamente nel palato davanti agli occhi e non nella parte posteriore del cranio come nei cocodrilli ma nemmeno come nel caso degli uccelli siamo a livello del palato davanti agli occhi infatti la stessa cosa accade in allo saurus siamo davanti agli occhi a livello della regione del palato è interessante osservare che probabilmente veloci raptor avesse una condizione che ricorda un po' quella degli uccelli invece perché la via respiratoria sbocca quasi a livello degli occhi a dimostrazione che questi teropodi erano più simili agli uccelli quindi almeno a livello di vie respiratorie dobbiamo concludere che la bocca di veloci raptor almeno a livello del palato fosse più simile a quella di un uccello piuttosto che quella di una lucertola ma non è questo il caso per la buona parte dei dinosauri ad esempio questo è allo saurus e questa è una conformazione del palato che è palesemente da lucertola quindi noi dobbiamo concludere necessariamente che anche questa insieme a tante altre evidenze che ho elencato in alcuni podcast precedenti confermano che questi animali dovessero essere dotati di labbra e non di bocca da coccodrillo non è ragionevole pensare che questi animali non avessero una qualche protezione del cavo orale quando si chiudeva perché ciò avrebbe comportato una pericolosa disidratazione della regione del palato dove sboccavano le coane ripeto se questi terapodi avessero avuto le coane posizionate come nei coccodrilli io non avrei avuto problemi a ipotizzare un palato completamente corneificato e quindi non necessariamente quindi avrei potuto ammettere la possibilità che non ci fossero labbra ma nel momento in cui la regione del palato è conformata esattamente come in una lucertola devo concludere che così come nelle lucertole e nella maggioranza dei vertebrati ci sono delle labbra che proteggono la bocca quando si chiude per impedire la disidratazione delle coane devo ammettere la stessa cosa anche nei dinosauri terapodi alcuni terapodi hanno una conformazione a metà strada tra le lucertole e gli uccelli quindi è già più interessante discutere la questione però in questo caso sono altri gli elementi che mi portano a pensare che l'animale avesse comunque un qualche tipo di labbra ad ogni modo la maggioranza dei dinosauri ha questa conformazione quindi la condizione generale nei dinosauri è quella di una bocca conformata come in una lucertola in più quelli più vicini agli uccelli hanno guarda caso una conformazione del palato che ricorda un uccello dovendo ancora denti non è necessario come dire dobbiamo poi valutare l'eventualità che ci fossero dei meccanismi vengivali preposti alla protezione della bocca e della fila di denti ma nella maggioranza dei dinosauri in particolare dei teropodi in conformazione è molto più simile quella che troviamo nei lepidosauri di oggi e quindi dobbiamo concludere che avessero un qualche tipo di meccanismo che impediva la disidratazione del palato e quindi meccanismi a protezione del cavo orale ovvero a protezione del cavo orale Grazie a tutti.